Siamo spesso abituati ad associarlo a regioni remote del mondo, ma l'inquinamento ambientale arriva anche sulle spiagge di Spitsbergen, in Norvegia, sotto forma di residui di plastica. Secchi, spazzole, giocattoli, molti oggetti sono chiaramente identificabili. Vengono raccolti nell'ambito di un progetto di monitoraggio attivo in tutto il mondo e ulteriormente analizzati. Uno dei ricercatori preleva campioni d'acqua per misurare la quantità di particelle di microplastica che contengono, questo perché, spiega il geologo, la plastica si decompone nel tempo e si accumula ovunque nell'ambiente. Perfino sui ghiacciai e nel ghiaccio marino, e siamo molto curiosi di sapere se possiamo trovarlo anche in laghi e fiumi, troviamo queste particelle in luoghi dove la gente non arriva mai e questo mi preoccupa. Un'alternativa potrebbe essere rappresentata dalle bioplastiche, che essendo prodotte da batteri sono completamente organiche. Questa ricercatrice sta cercando di scoprire se siano degradabili anche in ambiente artico. Gli scienziati sperano di ottenere dalla missione ulteriori informazioni sugli effetti che l'inquinamento esercita su ecosistemi fragili.